Parte la stagione del teatro civico della Spezia con Vincent van Gogh, l'odore assordante del bianco, con Alessandro Preziosi in scena giovedì 8 e venerdì 9. Ricoverato nel manicomio di St. Paul, Vincent si confronta con una situazione claustrofobica da cui vorrebbe uscire. Quanto è difficile confrontarsi con un personaggio tormentato come Vincent? È difficile confrontarsi con un personaggio che apparentemente si considera tormentato e quindi il suo tormento può essere effettivamente un innesto molto difficile tra l'interprete e il personaggio realmente esistito. Quando invece non lo si considera tormentato e quindi più accessibile, allora diventa più facile. Nel senso che se avessi dovuto affrontare questo personaggio partendo dal suo tormento avrei fatto un decimo della strada che ha fatto questo personaggio fino ad oggi. Sì, Renò, Don Giovanni, adesso Vincent. Sono dei personaggi che mi hanno dato forse tutto quello che professionalmente ho oggi. Conoscenza, approfondimento, curiosità, voglia di sentirne ancora parlare. È una galleria letteraria più che una galleria performativa. Per il teatro una stagione che conferma la fedeltà del pubblico spezzino. Noi puntiamo la qualità naturalmente, la cultura non deve inseguire i record, però i dati sono questi, ho quasi 1.100 abbonamenti e un record per questo teatro.